gli UFO esistono e dal primo giugno 2021 tutto il mondo li vedrà questo è il titolo di un articolo che appare sul Fatto Quotidiano e io questo articolo ve lo metto come link nel riassunto di questo video allora vediamo un po' come vanno le cose a questo mondo cari amici perché io come vanno le cose a questo mondo l'ho già spiegato in questa mia opera storico-mitologica vedete la stirpe del serpente sta in libreria la stirpe del serpente ricordatevelo sta in libreria vi aspetta in libreria allora si scrive così c'è scritto così il titolo aperte le virgolette gli UFO esistono e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà chiuse le virgolette l'annuncio di John Avet Clive ex direttore dell'intelligence USA ex direttore dell'intelligence USA e continua poi c'è l'articolo molto bello l'articolo c'è pure un video dice che si continuano a vedere degli avvistamenti ci sono degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati il fatto è che poi poi come al solito in cauda venenum Red Clive ha spiegato il rapporto sarà reso pubblico il prossimo primo giugno ma allora che cos'è che vedremo dal primo giugno vedremo gli UFO o vedremo un rapporto è perché il titolo è così il titolo aperte le virgolette gli UFO esistono e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà chiuse le virgolette è un'affermazione gli UFO è il titolo è il titolo dell'articolo gli UFO esistono e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà l'annuncio di John Red Clive ex direttore dell'intelligence USA poi ci parla di questi avvistamenti di oggetti non identificati avvistamenti che continuano, continuano, continuano però poi spiega Red Clive il rapporto sarà reso pubblico il prossimo primo giugno e io rinnovo la domanda ma allora il mondo tutto il mondo che cosa vedrà dal prossimo primo giugno vedrà gli UFO o vedrà un rapporto è perché il titolo qua è chiaro è virgolettato gli UFO esistono e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà gli UFO non si parla di un rapporto che dal primo giugno tutto il mondo lo vedrà tali rapporto poi in cauda venenum in cauda venenum in cauda venenum il rapporto ha spiegato John Red Clive sarà reso pubblico il prossimo primo giugno ditemi un po' poi come sono le situazioni a questo mondo beh io come sono le situazioni a questo mondo l'ho spiegato in questa mia opera ma soprattutto soprattutto io ho già potuto spiegare chi sono gli alieni gli alieni sono quelli che starebbero dentro gli UFO perché c'è un mio antichissimo video titolato alieni l'orribile verità sì 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 c'è un mio antichissimo video titolato o intitolato alieni l'orribile verità lo potete andare a vedere su youtube voi digitate io youtube Serafino Massoni alieni l'orribile verità adesso fatele voi le vostre considerazioni cari amici io ho fatto le mie ma dal primo giugno cosa vedremo? vedremo gli UFO o vedremo un documento? vabbè non è la stessa rosa ok cari amici a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni